E passiamo alla cover finestra. Nella cover finestra noi abbiamo una protagonista femminile sempre ritratta di spalle. Ok, cosa succede? Banalmente, ovunque può essere ritratta di spalle tutto corpo, anche solo parzialmente, come in questo caso di Tess Thompson, noi non vediamo la parte sottostante. Cosa succede? Che in questa copertina tutto viene detto, viene trasmesso tramite la posizione degli arti e della testa. Allora, una ragazza di spalle come questa, che ha la testa alta, guarda quindi lontano, e tiene saldamente in pugno le ante del cancello che sta superando, sta dicendoci, sta dicendoci, morrivo, morrivo io, non mi, cioè non mi ferma nessuno. Qua viceversa, guardate, questa The Nurse's Secret, l'infermiera di spalle, che guarda fuori della finestra, degli sconosciuti, e il pugno stringe, vedete con le nocche come sono pronunciate, come sono messe in evidenza, stringe il grembiule. Perché? Vedete com'è rigida? Le spalle sono arretrate, i gomiti sono arretrati, è pronta? Quando è che i gomiti arretrano? Quando si prende la rincorsa per spingere via qualcuno. il busto è leggermente arretrato, lei è pronta alla fuga. Cosa ci sta dicendo questa copertina? Che la protagonista ha paura, e infatti poi nella storia lei ha un segreto, vedete. Allora, qua invece abbiamo due cover molto simili, queste qua vestite di rosso, già sono vestite di rosso, va bene. Poi hanno una valigia, vuol dire che questa signora con la valigia di Irish Boarding House ha sicuramente una bella muscolatura di polpaccio, e anche una bella muscolatura nelle braccia al momento che tiene la valigia senza avvertirne il peso. Mentre invece in Haley Bidwood, The Wife Who Risked Everything, noi abbiamo una signora che marcia spedita, oltre un cancello. Vedete il cancello? Anche qua ritorna la porta come nella cover di Tess Thompson, cioè un passaggio, c'è una persona che sta andando da un'altra parte. Qui vedete che l'elemento ricorre, no? Qua c'è un cancello, qua c'è un cancello, qua c'è una finestra, qua ci sono delle cancellate, e ci sono delle cancellate in fondo con finestra, cioè queste cover indicano un passaggio, la forza di affrontare un passaggio, o la paura, come nel caso della nurse, della infermiera, di affrontare questo passaggio. In questo caso, per esempio, abbiamo in fondo, proprio in fondo a questa cover di Sabrina Jeffries, se abbiamo un portone, e sembra che lei lo guardi, dicendo proprio mi tocca. Non posso evitarlo, diciamo così. Anche questa protagonista mi sembra piuttosto atterrita. Qua ho fatto uno strappo, ho messo la cover di un'autrice italiana, perché Virginia dell'amore è talmente letta e venduta, che può permettersi anche le critiche. Non le faccio un baffo, voglio dire. Allora, in questa cover noi abbiamo, intanto va bene, c'è un cancello lontano, c'è anche una porta, una scalinata in realtà, però avrebbe dovuto essere più leggibile per poter creare quella tensione, no? Del passaggio che dicevamo. E poi le braccia sono, non si vedono quasi, è difficile. Noi sappiamo dal vestito che si muove e dalla capigliatura che c'è vento, probabilmente lei sta correndo, è sottoposta all'inforriare dei venti della passione, ecco, diciamo. Era debole sotto il profilo ornamentale, ma secondo me non è perfetta sotto l'aspetto più comunicativo. E questo ci viene utile per dire che, come ho fatto io per anni e anni e anni, pensare solo a vedere se l'immagine è bella o brutta, o una bella immagine non decreta il successo di una cover. Ok? Di una cover perlomeno per un romance, per una storia che si vende per il mondo che sa evocare. Cover finestra, quindi, raccontano sempre un passaggio, ma raccontano sempre una solitudine. È un passaggio che la protagonista affronta da sola, ok? Sono cover sulla solitudine, sulla solitudine del personaggio. Non è necessario che la nostra storia abbia una protagonista solitaria per adottare una cover del genere. Pensiamo al romanzo di Tess Thompson, The School Mistress, dove lei è una maestra che sta tutto il tempo full time immersa in una famigliona, quindi non è che è necessario che lei sia sola, ma deve essere sola nell'atto in cui decide di barcare la soglia. Quindi il sentimento della solitudine è quello da cui muove inizialmente il romanzo. Grazie. Grazie.